Presso la chiesa del monastero Santa Maria della Pace in Sant'Antonio di Padova in Biccarin, collaborazione con la parrocchia Maria Santissima Assunta, dal 9 all'11 gennaio è stato celebrato un triduo in onore della Beata Lucia da Val Caldara Norcia, il cui corpo giace sotto l'altare della chiesa ed è venerato dalla comunità delle sorelle povere di Santa Chiara in Biccari. Da sabato 9 a lunedì 11 gennaio si è tenuta alle 8 la Santa Messa con il triduo e alle 15.30 la Corona Francescana. Martedì 12 gennaio, nel giorno della solennità della Beata Lucia da Val Caldara, alle ore 17 ci sarà la recita dei Vespri e la Corona Francescana e alle 18 la Santa Messa preseduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giuliano, Vescovo di Lucera a Troia.